Salve a tutti gente, sono Alex Pios e come oggi potete notare sono ritornato su Boom Beach Faccio una premessa, io sto parlando con un altro youtuber per fare una collaborazione su alcuni giochi quindi a breve magari ci sarà il video con la collaborazione, non vi dico chi è perché non voglio dirvi ancora tu nulla solo questa premessa, come potete notare io, Boom Beach non è che mi piace molto il gioco sinceramente quindi lo uso poco Boom Beach, infatti mi hanno riconquistato di nuovo quelle basi che avevo appena conquistato però vabbè adesso avviamo qualche upgrade ma si aumentiamo l'abitazione, no, l'abitazione, quanto ci impiega? Vai bene, faccio un attacchino, faccio adesso, sperando di vincere solo che lì c'è il balordo riprendiamoci questo adesso se riesco mi faccio venire la voglia di nuovo di Boom Beach, lo prendo a fare bene 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 nel senso che inizio a giocare anche al di fuori dei video però è difficile perché a me Boom Beach non è che mi piace proprio tanto ho solo sbagliato il primo attacco per quello si mi sta attaccando il tizio davanti bene boh, ho vinto l'attacco io vi dico se mi venisse voglia sia per l'altro account l'altro account, il quarto account di Clash lo sto portando avanti quello sì, piano piano, anche se molto lentamente però piano piano lo porto avanti invece Boom Beach non è che mi piace proprio tanto averle quindi a me Boom Beach proprio come gioco non piace io lo faccio giusto per i video per cambiare un po' per non fare sempre le stesse cose ho vinto nessuna perdita tra l'altro possiamo provare ad attaccare devo capire qual è quello che c'ha quell'arma di merda lì quella balorda è questo boh, questo non lo attacco come ah, ok questo prima per illustrare quello io però qua potrei avere una soluzione con la cannoniera potrei provare a farglielo fuori però è difficile poi lanciare un fumo, magari lancio due colpi di cannoniera poi metto le truppe e lancio il fumogeno verso la cosa lì quella merda e in teoria dovrebbero distruggerla però è difficile perché quella lì no colpisce se li vanno sotto non colpisce più quindi buono, perfetto, proviamo non vi assicuro niente da questo attacco però ci voglio provare allora, due colpi di cannoniera uno e due perfetto poi mettiamo le truppe prepariamo il fumogeno allora guarda che stronza perfetto boh do un altro colpo di cannoniera a sto punto ho vinto l'attacco potrei applicare questa tecnica sull'altra l'altro villaggio visto che non mi hanno fatto fuori nessuno tentare di fare fuori subito quella poi si possono sparpagliare dove vogliono per distruggere tutto così dopo che ho conquistato queste queste cittadine qua questi villaggi qua posso conquistarne altre raga mi sa che farò il video solo su questo oggi perfetto non ho avuto nessuna perdita vero? yeah vai così senti io ci provo con la tecnica in teoria con quella tecnica lì si dovrebbe conquistare attacca allora due colpi di cannoniera e poi appena metto le truppe metto il fumogeno verso di quella anzi un colpo perché mi ci vorranno due fumogeni ok lo sapevo bravi lo sapevo che mi ci volevano due fumogeni ed è distrutta e mi sono fatto fuori pure le mie truppe però sono riuscito a vincere l'attacco almeno quello avete visto? la mia tecnica ha funzionato finalmente ce l'ho fatta distruggere ho detto che mi ci volevano due fumogeni finalmente anche se quel perla lì di cecchino poteva andare di là però vabbè almeno dava una mano agli altri a distruggere ma non è che vai di là eh hanno bisogno di aiuto quelli eh intanto ho distrutto tutto in teoria due truppe mi dovrebbero aver fatto fuori se non mi sbaglio sì due bene ci sarebbe no mai ci sarebbe poi da attaccare sti due però tipo questo proviamo a vedere per lustro com'è oh madonna no 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 niente scusa ho sbagliato anche a guardarti ah sti cazzi non è al 5 una volta nuovo avversario all'8 anche questo nuovo avversario a 9 vai da oh cazzo no 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 niente non lo attacco facciamo una cosa passo nell'altro account e magari faccio qualche allora avvio nel frattempo ok passo nell'altro account e magari faccio qualche miglioria e poi termino il video ok ok eccomi qua sono arrivato qua nell'altro account c'è il veicolo da sbarco da migliorare ma si miglioriamo il veicolo da sbarco due minuti si può anche attendere due minuti magari stoppo il video magari se devo no 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 beh io come vi ho già detto prima io adesso forse anzi avrò una collaborazione con un altro youtuber non vi dico con chi non vi dico quando non vi dico ancora nulla quindi che cazzo ok Crash of Cans e boh io spero che la collaborazione riesca e boh finisce appena finisce il veicolo da sbarco riprendo il video ok boh mancano solo più pochissimi secondi ho finito praticamente il veicolo da sbarco ok ah devo aggiungere truppe posso no ok e boh allora c'è la cannoniera da avviare quanto ci impiega mezz'oretta boh niente questo quanto ci impiega 45 minuti e no quartiere gennaio no allora abbiamo la cannoniera a livello 3 e boh spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima belli di o